Ritroviamo con il sorriso dopo tanto tempo, con merito, complimenti. I complimenti vanno fatti ai ragazzi perché non era, l'abbiamo detto ieri, una situazione ambientale semplice. Le scelte fatte erano sul fatto di puntare sulla freschezza dei nuovi arrivati e di qualche giocatore che magari aveva dato meno o che essendo più giovane è un po' più spensierato. Fortunatamente oggi le scelte sono state azzeccate perché i ragazzi comunque hanno fatto veramente una grande partita e parlo soprattutto della partita finché siamo rimasti in parità numerica perché anche lì soprattutto il primo tempo dopo il doppio vantaggio comunque abbiamo creato diverse situazioni da gol. Quindi bene, bene, è chiaro che è un piccolo passo, siamo felici ma sappiamo che dobbiamo dare continuità a questo tipo di prestazioni e a questo risultato. Vado un po' controcorrente, tra un po' farò due note dolenti, tra virgolette, però voglio andare sulla partita di oggi perché Krasia e Jabu hanno interpretato alla perfezione il ruolo di centrocampo a due. Io credo che siano proprio i giocatori che lo possano fare meglio in questo organico. Vergani bene, Raffià categoria superiore, l'esordio di Merola. Cosa chiedere di più? Dal centrocampo in su squadra con il più anziano Raffià classe 99. Sì, quando si parlava di freschezza era quello. Giovani che hanno talento, hanno qualità, chiaramente qualcuno ha un percorso diverso, magari un po' più lungo, magari ci è voluto o ci vorrà un po' più di pazienza. Parlo delle monache. Non si è mai discusso le qualità dei giocatori. Ogni tanto si può sbagliare il momento in cui non inserirli o inserirli. Non è sicuramente una cosa facile. Per cui, ripeto, oggi bene e con questi giovani che hanno veramente dato qualità, freschezza. Ma, ripeto, è stato bello vedere da fuori certe combinazioni, la qualità individuale, ma messa al servizio poi della squadra. Perché, come dicevo, sono uscite delle combinazioni, secondo me, di alto livello. Il gol di Lescano e il gesto ai tifosi come a scusarsi? Ma, mi fa piacere. Mi fa piacere, al di là del gesto, dal gol che dà comunque morale, dà fiducia a un giocatore che cercheremo di recuperare il prima possibile. Perché, come tutti gli altri, in questa rosa, devono tornare utili. Speriamo per un finale di campionato increscendo con l'obiettivo vista playoff. E vado alle due note dolenti che le anticipavo. La prima, 4-2-3-1. Credo che con le qualità del reparto offensivo sia quello il modulo. Come si fa a gestire Mora per giocare con Raffià e altri tre attaccanti, poi? Fatemi godere una settimana. Ho detto le note. Almeno una settimana tranquilla dopo tanto tempo godiamocela, poi ci penseremo. Ma credo che con l'intelligenza di Luca si possa trovare anche qui la quadra in mezzo al campo. Ripeto, perché magari a volte uno ha una qualità differente dall'altra, ma chi ha la testa e la capacità di leggere gioco come Luca si può adattare in qualunque modo. Poi ne abbiamo altri di giocatori, per cui dobbiamo veramente... L'obiettivo oggi, da qui alla fine, è quello di cercarne di coinvolgere il più possibile, chiaramente in più momenti, non nello stesso momento, perché 11 possono... non è cambiata la regola, mi sembra che possano andare in campo in 11 e quindi quello è. Mi ha anticipato la seconda nota un po' polemica, perché la mia esplicita domanda del presidente Sebastiani su Messi che ha detto se non gioca non possiamo vedere se è bravo. Ci vuole tempo, poi tutto subito magari non riesco a dare neanche al presidente. Iniziamo in un momento come era questo, andiamo sulle certezze, ma ci sarà modo anche per Messi di scendere in campo e di far capire a tutti quelli che sono i suoi mezzi e le qualità. Una domanda da studio e salutiamo il tecnico Alberto Colombo. Vi ascolta. Che rivolgerà Fabio Ferreresi. No, chiaramente, mister, oggi ti faccio i complimenti perché secondo me ha azzeccato tutte le scelte, quindi bene così. Volevo chiederti quanto entusiasmo e quanta competizione hanno ridato al gruppo questi elementi che avete preso adesso nel mercato, che comunque sono due elementi importanti di qualità, che secondo me hanno rimesso un po' in discussione anche alcune scelte che chiaramente ha ricostretto a fare per pochi ricambi e chiaramente la qualità e l'asticella durante la settimana si alza e quanto è bello per te vedere questa competizione e quanto può aiutare il gruppo. Ma sai, benissimo Fabio, quando arriva qualcuno di nuovo porta entusiasmo perché non ha le scorie del passato né a livello ambientale come a noi è successo in questo periodo, giustamente, ripeto, per quello che abbiamo fatto di negativo in campo, ma neanche nel gestire le gerarchie, no? Perché uno sa ormai di avere un certo posto fisso in una gerarchia dell'allenatore, quindi se viene chiamato meno in causa ha meno entusiasmo di altri. E con loro viene scombussolato tutto, viene rimescolato tutto, è come quando viene cambiato un allenatore tutti si sentono allo stesso punto, partono dalla stessa linea. Questo favorisce appunto la competizione, l'innalzamento, nuovi stimoli perché chi magari ha giocato fino a oggi vede cambiare un po' le dinamiche, ma non per questo deve sentirsi fuori da un progetto, dalle gerarchie, deve cercare sicuramente di imparare magari dalle qualità che hanno gli altri, soprattutto nei tempi e nei movimenti. Poi le qualità tecniche e fisiche sono per ogni giocatore a sé stanti, però su questo se hai dei giocatori bravi e li copi in certe situazioni sicuramente puoi aumentare e migliorare il tuo bagaglio.